Cima Pantani anziché passo del Mortirolo, perché no? Un'ipotesi tutt'altro che remota, che nel futuro potrebbe diventare realtà, anche se il condizionale è d'obbligo. Molti fan di Marco Pantani auspicano infatti in un nuovo nome per la vetta di uno dei tracciati più impegnativi d'Europa, senza dubbio reso mitico dalle imprese del campione romagnolo, epico pedalatore sui verdi tornanti da brivido della Valtellina. Una cima a quota 1853 metri tutta per il pirata, simbolo indiscusso di una intera generazione di ciclisti e duelli fra grandi campioni sportivi, proprio per onorare le sue ineguagliabili geste atletiche, i suoi formidabili attacchi in salita e perpetuare la memoria di chi il 5 giugno 1994, sui ripiti e mitici pendidi alla valle, inclinazione media del 10,9% e massima del 18%, iniziò la sua leggenda. In via ufficiosa sembrerebbe che le trattative per dare un nuovo nome al noto passo siano già in corso, per verificare la fattibilità e che vi siano stati incontri fra il comune di Monno e il comune di Mazzo. Al momento però nessuna dichiarazione ufficiale, anzi la notizia sembra essere tenuta nel più stretto riservo. Non vi è dunque ancora nessuna certezza, ma intanto nella giornata di oggi è doveroso ricordare che sono passati 15 anni dalla scomparsa di Pantani, un predestinato, l'ultimo dei ciclisti che nel 1998 ha realizzato l'accoppiata Giro Tour. Vittoria al Giro d'Italia e al Tour de France nel medesimo anno grazie ad azioni entrate nella storia. Al momento si può affermare che pur mancando l'ufficialità, la macchina o meglio la bici guidata dai numerosi fan di Pantani stia viaggiando e si può essere certi che sarà fatto ogni passo possibile nel rispetto della memoria dell'atleta per onorare un uomo schietto, coraggioso, capace di lottare. Senza dubbio scomodo a molti che, a prescindere dai giudizi, ha saputo colorare il ciclismo di emozioni profonde e carisma, perché è l'importante metterci il cuore e il pirata il cuore lo ha sempre messo.